Non ho preso niente perché non ce l'ho fatto, domani c'è un piccolo bufesco, grazie, grazie, questo è tuo a lui, grazie, wow, si ora gentilmente grazie, ok, addio, è arrivata anche lei, grazie, 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 gra ora devo da pressione allora dai devo dare un giacchetto a me vado c'è un cd c'è un europeo voi mi fate molto magro modello numero 5 giudica è una fiesta è una fiesta è una fiesta è una fiesta faccio muovere rob . fate cambiamenti come a fare lo sci non hai il lello è ancora il hammer ragazzi sono simoni va bene io mi ringrazio tutti appagati grazie sono saccione sono diventata amici